Mi amati fratelli e sorelle, sono davvero molto lieto di darvi il benvenuto a questa conferenza mondiale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Siamo riuniti come una grande famiglia, con i suoi oltre 15 milioni di membri, uniti nella fede e nel desiderio di ascoltare e di imparare dai messaggi che ci verranno presentati. Gli ultimi sei mesi sono trascorsi velocemente, mentre l'opera della Chiesa è avanzata senza impedimenti. Un mese fa ho avuto il privilegio di dedicare il Tempio di Gilbert in Arizona, una struttura magnifica. La sera prima della dedicazione si è tenuto un evento culturale nel vicino Discovery Park. 12.000 giovani si sono esibiti per 90 minuti. I balli, i canti e le esibizioni musicali sono stati eccezionali. Quella zona stava affrontando una siccità particolarmente intensa e credo che nelle settimane precedenti fossero state rivolte al cielo numerose preghiere affinché giungesse la pioggia tanto necessaria. Sfortunatamente ha cominciato a piovere proprio prima dell'esibizione e ha continuato per tutta la durata dello spettacolo. Nonostante i giovani fossero bagnati fradici a causa della pioggia e avessero freddo, abbiamo tutti sentito lo Spirito del Signore. Il tema del programma, Vivere rimanendo fedeli, è stato rappresentato magnificamente da giovani uomini e giovani donne sorridenti ed entusiasti. Nonostante il freddo e la pioggia, è stata un'esperienza ricca di fede ed edificante di cui questi giovani faranno per sempre tesoro e che racconteranno ai loro figli e ai loro nipoti negli anni a venire. Il giorno successivo è avvenuta la dedicazione del Tempio di Gilbert. È diventato il 142esimo Tempio in funzione della Chiesa. A differenza della sera prima, è stata una bellissima giornata piena di sole. Le sessioni sono state fonte di grande ispirazione. Hanno partecipato insieme a me il Presidente Henry B. Eyring, l'anziano Tader Callister, l'anziano William R. Walker, l'anziano Kent F. Richards con le loro rispettive consorti. A maggio verrà dedicato il Tempio di Fort Lauderdale in Florida. Nel corso dell'anno completeremo e dedicheremo altri Templi. Per il 2015 abbiamo in programma di completare e di dedicare altri Templi in molte parti del mondo. Questo processo continuerà. Quando verranno completati tutti i Templi già annunciati, avremo 170 Templi in funzione in tutto il mondo. Sebbene in questo momento stiamo concentrando i nostri sforzi sul completamento dei Templi già annunciati e non annuncieremo altri Templi nell'immediato futuro, continueremo a determinare la necessità di prossimi Templi e a cercare il luogo in cui sorgeranno. Gli annunci verranno fatti durante conferenze generali future. Siamo un popolo che edifica Templi e che frequenta il Tempio. Ora, fratelli e sorelle, siamo ansiosi di ascoltare i messaggi che ci verranno presentati oggi e domani. Coloro che ci parleranno hanno cercato l'aiuto e la guida del Cielo durante la preparazione dei loro messaggi. Mi auguro che tutti noi saremo ricolmi dello Spirito del Signore e che saremo ispirati mentre ascoltiamo e impariamo nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen. Grazie a tutti.